E' stato assolto in secondo grado Luca Orsini, condannato in primo grado per abbandono di incapace e aggravato dalla morte e vilipendio di cadavere. Questa è la decisione della Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila per il commercialista pescarese coinvolto nella vicenda della morte di Ornella Florio, la sua ex compagna all'epoca dei fatti, 39enne e dipendente di una banca e che venne trovata nel bagno della sua abitazione a Pescara, impiccata con una cintura al termosifone, i fatti risalenti al 7 luglio 2017 che videro nel 2022 Orsini, condannato con rito abbreviato a 4 anni e 4 mesi per abbandono di incapace e aggravato dalla morte e vilipendio di cadavere e l'assoluzione per omicidio collegato all'abbandono di incapace e cessione di droga. Ed è arrivato nel primo pomeriggio di ieri, dopo una lunghissima discussione, la sentenza di assoluzione dalla Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila di cui il procuratore aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado, così come le parti civili. La difesa di Orsini si era concentrata sulla lettera in cui la donna annunciava il suicidio e si scusava con la famiglia. Piena soddisfazione del legale per il pronunciamento, ma si attende di conoscere le motivazioni della sentenza.